e ciao ragazzi qui è sabbit e benvenuti in questo video speciale in questo video speciale volevo augurare a voi alle vostre famiglie un sereno ferragosto e volevo anche sottolinearvi per quanto riguarda la programmazione io penso di andare in vacanza tra un po' quindi diciamo che uscirà un solo video prima della fine del mese poi per quanto riguarda la programmazione normale le richieste le serie riprenderà tutto quanto verso il 5 settembre quindi ragazzi vi ripeto un bacione enorme a voi alle vostre famiglie e soprattutto vi auguro una buona fine estate dal vostro sabbit